Questa mattina anche gli abruzzesi da Pescara a Teramo, passando per Alba Adriatica e L'Aquila, si sono svegliati poco dopo le 7 di mattina con tre forti scossi di terremoto. La prima di magnitudo 5.5, la seconda da 5.2 e la terza da 4 gradi della scala Richter. Numerose le segnalazioni attraverso i social network a seguito della scossa delle 7.07, avvertita distintamente in vari parti. Numerose le segnalazioni anche dalla provincia di Teramo, la più vicina rispetto alle Marche, già interessata in maniera significativa dalle forti scosse registrate nel centro Italia nel 2016 e nel 2017. Ad Alba Adriatica, comune a poca distanza dalle Marche, c'è chi l'ha avvertita distintamente, ma anche chi non si è accorto di nulla. Sì, ho sentito un movimento strano del sofà, che ho detto che non possono essere i miei cani. E subito ho capito che, e poi sono andata a vedere il telefono, 0... no, 7.07 era. È successo qua vicino, a Fano, vero? E quindi speriamo che non si dà un'altra, tutto qua. Si è spaventata? Ma non ho avuto tempo, perché prima di spaventarmi ho già capito cos'è, poi ho capito che non è grave per noi almeno, visto che era solo un piccolo spostamento di divano, però non è una cosa piacevole sicuramente. Ha sentito il terremoto questa mattina? No, no. Stava dormendo? Sì. No, tranquillo. Tranquillo. Quando si è reso conto che c'era stato il terremoto? Mi hanno mandato gli amici su internet. E basta. La signora l'ha sentito? No. Neanche io ho sentito, niente. E mezzo stavo già fuori col cane a passeggiare, quindi non... Invece la signora stava a letto, ha sentito che il letto tremava, e si è accorto, per mezzo minuto è così, dopo mi ha raccontato, quando sono rientrato, capito? Stavo a casa e tremava a letto, tremava a letto, sì, 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 si tremava a letto così, allora niente, ci siamo svegliati. Si è spaventata? Sì, certo, un pochettino sì, ma le scosse ormai abbiamo sentito tante, perciò uno si regola. No, no, stavo nel dormiveglia, è stato dieci secondi, molto leggerci, non... che poi sa piano terra, non è stato così brutto come voi in televisione si è visto, insomma. E mi ero alzata da poco. Ti sei spaventata? Ma è un po', però è stato un po' lungo, però, eh? Sì, sì, l'abbiamo sentita bene. No, eravamo già in piedi noi, però eravamo già in piedi e mio marito che invece stava ancora a letto ha detto il terremoto, il terremoto, infatti mi sono girata verso la televisione con il mio billetto che si muoveva, poi sono andata di là, si muovevano anche i quadretti appesi al muro, diciamo. E poi basta, abbiamo sentito quello che ha detto la televisione, siamo rimasti così, speriamo che sia finito.